Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione Prozis Oggi siamo qui per provare i burri Ovviamente vi dico già che usciranno due video inerenti comunque ai burri slash creme Oggi ne andremo a provare i 5, non vedo l'ora Il prezzo si aggira intorno ai 2,99€ ai 3,49€ per 250g di prodotto Quindi veramente un prezzo super super basso Considerate che comunque Prozis spesso fa scontistica Comunque ci sono tante persone che collaborano con Prozis Che hanno comunque dei codici sconto Quindi veramente risparmiate tanto Allora vanno in 3 e io provo La zurrina Quindi questa Ok burro di arachidi al gusto cioccolato E per 100g ha 621 calorie Di cui grassi 50g Aspettate che arrivi carboidrati 15g Di cui zuccheri 11g Fibra alimentare 7,7g Proteine 24g E sale 0g Io ovviamente come tutti i prodotti che ho recensiono da 4 anni a questa parte Io mi focalizzerò solo sul sapore Perché poi ognuno di voi apre il sito In base alle proprie esigenze si va a guardare la tabella nutrizionale Gli ingredienti e così acquista e sceglie Quindi andiamola a vedere nel dettaglio I ricordi Penso che lascerò la parte di quando comunque ho fatto il sigillo Che ricordi Cioè io mi ricorderò per sempre Io avevo il burro di arachidi Quello grande da un chilo E tutte le mattine quando mi svegliavo alle 6 Per andare a scuola Mi facevo sempre le mie gallette Con yogurt greco Banana E sopra proprio Tanto di quel burro di arachidi Che ricordi Allora questo qui diciamo Che prima c'è la prongalata Perché abbiamo iniziato comunque da quello semplice Buonissimo Wow Firmati perché ne tendete a provare tantissimi altri Allora la consistenza è meravigliosa Da come avete visto Super vellutata Molto liquida Ovviamente fa caldo qui In questa stanza specialmente Fa veramente tanto di quel caldo Quindi ci sa che Ha migliorato ancora di più la consistenza Molto liscia Molto vellutata Sapore buonissimo Devo dire la verità Che il cioccolato non si sente molto Io sento solo il burro di arachidi Ma proprio quando aprite l'arachidi E ve lo mangiate Uguale Uguale Il cioccolato si sente Ma non è tanto invasivo È molto delegato Forse ad occhi chiusi Avrei detto direttamente Sembra solo un burro di arachidi Comunque molto buono Apprezzo il fatto Che non è tipo Che non ha quel retrogusto Amaro Ma è un retrogusto Molto dolce Molto piacevole Dato ovviamente io poi alla fine Vi farò la classifica Vai scegli Ah io sempre Sì sì Il giallino Ok Che tu poi bello Non li vedi i gusti No no Infatti Pure che non l'hai visto Hai iniziato da proprio quello semplice Perché è l'unico più semplice Allora Ti sei sposata bene anche questa volta È sempre un burro di arachidi Però questa volta è cioccolato bianco Sempre versione smooth Quindi nessuna versione crunchy Di valore alla fine Stiamo quasi lì Quindi è inutile che È inutile che ve li sto sempre a ripetere Perché altrimenti ce ne andiamo domani mattina Ma andiamola a vedere nel dettaglio Assaggiamo Wow Oddio non mi riesco a ricordare Cosa sembra Lo vedete Rispetto al cioccolato Vabbè io lo sapete Io sono un amante Cioccolato bianco Pistacchio Nocciola Cioè Io adoro Per me questo cioccolato Va proprio all'ultimo Però vi posso dire Che già tra i due Cioccolato e cioccolato bianco Io preferisco cioccolato bianco Da ancora di più quella dolcezza Però non so che io Vole si sposata a Dio Col burro di arachidi Questo è pazzesco Ovviamente adesso Ci inoltreremo Con quelli più particolari Vali Verde scuro Verde scuro Il tuo amore Nell'ultimo periodo Qual è? Caramello salato Questo però non è caramello salato Burro di arachidi Caramel crunchy Quindi all'interno ci sono I pezzi Andiamo Sempre due cinquato Sempre solite cose Questo è buono Però Allora il caramello si sente Ovviamente Il burro di arachidi Prevale sempre Buono però Non mi fa impazzire Infatti per la tua faccia Se l'avevo notato No è buono però Forse secondo me È più buono là Quello là Extra Crunch Perché si sente Ancorato in più Secondo me il caramello Andiamo a provare il penultimo Che sarebbe Sempre un burro di arachidi Però Gusto Cocco Coconut oil Quindi a olio di cocco Sempre smooth Questa volta Sempre due cinquanta Andiamo a vedere Questo tra tutti proprio A parte che ci è voluto tanto Per girare Perché giustamente All'interno c'è anche L'olio di cocco Tra tutti è quello proprio Più liquido L'odore Si sente tantissimo Il cocco Veramente tanto Assaggiamo Molto particolare È buono Lo sapete Che non so Dopo vado a vedere Ma che cosa ve lo scrivo Se questo c'è anche Tipo la versione crunchy Ma tu ti immagini Che spettacolo Come Può essere Guarda che è buonissimo Questo crunchy Oppure Tipo coccorapè All'interno Adoro Veramente buono Sempre burro Arachidi Però All'interno Ci sono le noci Pecan Caramellate Ovviamente Crunchy Sempre due cinquanta Andiamo a vedere Raga Forse tra tutti Tra rispetto a quella caramello È super super pieno di noci Pecan Veramente Assaggiamo l'ultimo Lo sento la cannella Guarda che l'ho sentita subito Cannella in polvere Allora Sapete Che io Non amo la cannella Cioè veramente A me non piace proprio la cannella Però do dire non è male Molto particolare L'ho sentita subito Appena E ho detto Mmm Cannella Dall'odore No Dall'odore Non si sente tanto Ma al sapore Ho detto Questa è cannella Infatti Cannella in polvere Tra tutti posso dire Che questo è quello più pastoso Invece gli altri no Ma questo tra tutti È quello più pastoso Niente male Molto particolare Però quello che sento Non è neanche tanto Il burro d'arachidi Ma è la cannella La cannella La cannella La sento assai So Se siete delle amanti Comunque Del burro d'arachidi Della cannella Le nocipega Anche non tanto Le nocipega Perché non si sentono tantissimo Vi consiglio di prenderlo Perché secondo me Vi può piacere Poi ragazzi Per il prezzo Che hanno Tutto Ok Io sono super pronta Per farvi la mia classifica Ovviamente È una classifica Personale Vi farò la classifica In base Ovviamente Ai miei gusti Io al primo posto Mi sento di metterci Tra tutti E dico tutti Cioccolato bianco Perché Wow Ovviamente Molto molto buono Al secondo posto Ci vado a mettere Cocco Al terzo posto Adesso andiamo Per la sua particolarità Io Ci vado a mettere E non sono un amante Della cannella Ci vado a mettere Nocipegan Quarto posto Ovviamente Caramello E quinto posto Ma anche perché No perché non sia buono Ma perché alla fine È un gusto molto semplice Nulla di particolare Vado a metterci Cioccolato Quindi Sinceramente Io ve li consiglio Sono ottimi Vi aspetto anche Nella seconda parte Perché andremo a provare Gli altri burri E le altre creme Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao